bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui silvestro l'andrea e il grinta siamo oggi tornati fifa 16 in gioco ufficiale finalmente è uscito finalmente siamo pronti a fare il video allora no non lo voglio il trainer non lo voglio il grinta con il suo Borussia Dortmund e io ho voluto provare invece il manchester city che si è potenziato parecchio almeno ho visto dalle cose dalle statistiche allora ma perché è così? vi dico subito che è completamente diverso dalla demo risulta molto più veloce rispetto alla demo che era veramente macchinosa anche i tiri sono diversi è un gioco veramente diverso ci hanno proprio ingannato io non l'avrei presa non l'avrei ma c'è giù giù c'è giù giù bastianici corri 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 ma vaffan bene banana sei proprio un banana voi vieni a banana eh ho capito però un sepoggio da così bello royce la mette in mezzo ma vaffan bene ma è proprio una pippa sto banana non riesce a farlo ma vaffan cubo non tanto la porta non la prende su tre tiri non ha presa neanche una volta quindi ormai lui fa sta attitudine ragazzi io fai un porta burchi e non lo so perchè se vede che me so sbagliato un occo oh tenta il tiro al volo burchi gli ammola c'è uno abituato a fifa 15 attenzione nooo perchè 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 si vabbè non si gioca sono a bando dei caciottari questi oh 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 fortamente oddio oddio attenzione la gufata mistica ma vaffanculo no c'è qualcosa che non mi ha spiegato c'è ci sono dei tassi nascosti che è e che sono cambiati i comandi ma fammi capì si si tira con x e me sa de si c'è no che cosa fa ho questo tuo oh io voglio vedere se stanza fa niente premendo solo il pressing e sarai io attenzione no no ma non è possibile ma non è possibile ma che cosa è questo dai signori ma è proprio una pimp ma che è il portiere oh ma che è il caciocavallo dai qua su ma c'ha le mani di ricotta dai la vellutata su ma guarda cosa ho fatto che aveva qui ce l'aveva lì guarda che cazzo no dai no dai scusa posso cambiare portiere o io vede burchi ma vedo dove l'hanno preso qui ma perchè diranno così ma perchè che c'è no veramente c'è stata una scossa e non mi ha spiegato ho ucciso eh boof oddio eh rosso che cazzo è sta partita qua se non mi dà il rosso raga eh c'è mo i date niente non l'ammonice ah eh mo te ne va al fancubo compri guarda questo guarda che in faccia eh questo tanto non lo segnerò mai questi sono impossibili da segnare questi metto là ecco questi sono difficili eh però adesso è tosta perchè sono un'ora in meno eh ma cinquantaseiesimo metto anche in difensiva va oddio il portiere è uscito tipo superman ATTENZIONE A GUERO PROVA IL TIPO no 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 mo sto rischiando un po' troppo ma saprei che sto pre in difensiva ma lo state perchè stavo ma gli avete fatto il sandwich oh eh io ce li trova sempre ma eh ci riesce prima o poi ma stai per giocare in difensiva va ha un supremo attacco ma stanno tutti in attacco a che è che buono oh 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 attenzione eh no non è buono non è capace non è capace proprio joart eh come è passato sto ballone sa caga no ma ricorda che c'era un problema se ne c'è il grinta c'è un problema a tirare no ma io indirizzo ma penso la porta no fuori ma che è successo non so che cacchio succede questo fifa non era così il quindici ti credo il quindici ce l'avevo un volo di allora oddio oh signori joart joart che cazpida porca joart no vabbè ma io non gioco più joart in in my house oh ma non è possibile ma che è questa porta che c'è stata saracinesca oh allora no io non riesco a segnare qualsiasi portiere portiere oh ma io la ributto dentro così oh 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 qualcuno eh qualcuno e che caso eh mica vabbè che vabbè eh che cazzo eh ma te sta bene te sta appena che sei altro il col più diverto della storia eh ma te sta bene eh mica vabbè oh eh che cazzo ho capito ho capito ho capito cioè da tutti i colpi che potevi fa questa io non ci credo non ci credo no jesus jesus tenta la corsa disperata mamma mia oh cosa fa c'è ancora la pala lui è ancora la cara oh oh no niente troppo falsa allarme falsa allarme ci prova te purini ma tentative un po' da parte sua oh alzati oh sì che culo che culo tira da testa se la madosca chi è oh banana banana fa la finta come nulla se ne va ah la situazione è tesa il portiere tenta di uscire forse no 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 grandissima sarola murano finisce così no 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 non me lo chiedo perchè sarò ti riesco tutti i rigori signori no io non lo voglio battere no no non lo voglio battere giaglione aspetta intanto ragazzi io già so il mio triste destino iaglione dure iaglione dure iaglione dure dè qua eeeh marcolino siiii joard la joard joard ma che parte la parata sempre la parata sempre attenzione sergio agguero sergio agguero carica il tiro e stavolta anche mamma mia che una volta la prende tanto questo sbaglia capirai di nuovo joard attenzione joard joard sempre lui signori tutti i lati il grande difensore è qui lo spiazza di nuovo joard alla parata vediamo e lo imbabila anche questo signori ma che carico eeeh ma vaffa siete proprio delle pippe ooooh l'ultimo rigore colarop capirai quando andate colarop eeeh mkhitaryan eeeh spiazzato spiazzato va a tirare joard va a tirare joard forse sarà lui il salvatore joard joard è lui joard è lui il salvatore è lui il salvatore eccolo va a risultare là signori il video finisce qui silvestrano vi saluta pure grinta che si sente in lontananza ci vediamo con un prossimo video di fifa di qualsiasi altra cosa lasciate un like un commento soprattutto iscrivete al nostro canale se ancora non lo avete fatto ci vediamo lo secondo video di fifa 16 o di qualsiasi altra cosa penso comunque di fifa 16 noi vi salutiamo bella